Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita, oggi un video informativo velocissimo per informarvi di una novità. Ho da poco iniziato, da un mesetto circa a fare seriamente Twitch, ma la prima cosa che voglio dirvi è rassicurarvi che la mia attività principale resta YouTube e resterà sempre YouTube con la sua pianificazione dei tre video, dei tre giochi a settimana. Tuttavia Twitch è un'importante alternativa per quanto riguarda tutte quelle giocate diciamo un pochino più rilassate per approfondimenti. Ad esempio oggi ho pubblicato Enzone World Apart, ma in realtà una sera avevo fatto una live velocissima in cui l'avevo provato al volo, così come ho fatto un approfondimento su Legend of Keepers, ho fatto anche Rateropolis in live dove l'ho giocato 35-40 minuti, insomma così in modo più disteso. Quindi Twitch, che trovate comunque a twitch.tv slash Indie Gameplay Ita, il canale è questo, come vedete ho già fatto, scusate, ho già fatto numerosi video, di cui appunto Darkwood stamattina, ho fatto Elder Scrolls Online, Gold Rush, di cui porterò una miniserie di qualche episodio su YouTube, ho fatto questa live qui di Enzone una sera, come vi dicevo, ho fatto Mewbase una mattina, Rateropolis un approfondimento, questa è stata su Dead Cells, è stata una live interattiva dove chi era in chat poteva farmi capitare cose piuttosto che usare oggetti al posto mio per aiutarmi. Insomma è una sorta di approfondimento per stare un po' in compagnia parlare in chat e alternativa, ripeto, l'attività principale sta su YouTube, però qua in ordine sparso senza programmazioni definite, se vi va potete venire a vedere, parlare e magari giocare insieme anche con le live interattive, insomma. Tante volte ci sarà magari l'approfondimento che su YouTube non c'è per esigenza di tre video a settimana, qua magari si approfondisce e si va a giocare liberamente senza pensieri, senza l'esigenza di dover spiegare, in modo molto rilassato. Quello che vi dico è, come vi ho sempre detto, visto anche la situazione attuale in cui i giochi che arrivano sono veramente pochissimi, infatti sto cercando di inventarmi nuove cose, se vi va e avete l'abbonamento Amazon Prime, appunto per le spedizioni gratuite, e avete linkato il vostro account Twitch, potete fare, qua in alto lo vedete, regalo abbonamento. Regalo abbonamento è completamente gratuito per voi, aiuta il canale, come vi dico sempre, non date, donate, soldi. Fate, usate i referral se volete aiutare i canali quando acquistate le key, anche su Epic Store, con il referral in game play data quando acquistate, o se vi va abbonatevi, ed è gratuito, non fate gli abbonamenti a pagamento, assolutamente, cioè se avete Amazon Prime è gratuito, ve lo dico così per se vi va di aiutare il canale in modo del tutto gratuito senza tirare fuori un centesimo perché io non lo voglio assolutamente. Quindi questo è Twitch, se vi va iscrivetevi, insomma mettete il cuoricino e verrete informati quando andrò live, se vi va poi di passare e stare un po' in compagnia e parlare insieme. Generalmente le live durano 40 minuti, 1 ora, insomma, neanche più di tanto. Fatemi sapere ragazzi, alla prossima, ciao ciao!